Grazie, signora Presidente. Signor Ministro, la nostra interpellanza sollecita il Governo a presentare rapidamente al Parlamento un intervento drastico di riduzione della ipertrofia burocratica e normativa che pesa sulla vita delle persone e ostacola l'attività delle imprese. Il tema è così poco originale nei dibattiti parlamentari da rendere necessario da parte mia un chiarimento preliminare. Potremmo partire da qualunque punto della storia del nostro Paese. Già Francesco De Santis, 1865, lamentava come la burocrazia avesse tolto spinta all'attuazione di alcuni provvedimenti. Ma per prenderla dall'inizio della storia repubblicana, Emilio Sereni, Ministro dell'assistenza pospellica, nel 1946 definiva incontrollabile il potere della burocrazia. Vanoni si lamentava dei processi burocratici interminabili. Fanfani si propose di intervenire contro un'amministrazione pubblica lenta e arrugginita. Rumor tentò di intervenire contro il potere condizionante, se non decisionale, della burocrazia. Nenni, erano gli anni Sessanta, chiedeva di intervenire contro l'infinità di enti pubblici che, più che essere diretti, finivano per dirigere il Governo stesso. Andreotti, e siamo agli anni Settanta, portava in Consiglio dei Ministri proposte per snellire la macchina statale. Potrei continuare, potrei elencare le iniziative di ogni Governo fino ai giorni nostri e fino al Governo in carico, ma mi fermo qui nell'escursus. Voglio solo dire e sottolineare che non siamo velleitari sognatori. La mancanza di consapevolezza e di realismo sarebbe grave per ogni parlamentare, per chi, come me, ha diversi anni di vita parlamentare alle spalle, sarebbe addirittura imperdonabile. Conosciamo, Signora Ministra, quanto il problema sia radicato, quanto sia annoso e come sia stato oggetto di iniziative e tentativi di ogni Governo e in ogni legislatura della storia repubblicana. Perché allora questo nostro atto di sindacato espettivo? Perché una sollecitazione di oltre 50 deputati del gruppo del Partito Democratico. Perché il tempo che stiamo vivendo è un tempo non ordinario e sollecita risposte non ordinarie. Fronteggiamo una inedita e drammatica emergenza sanitaria e già ci prepariamo ad affrontare il percorso arduo di una crisi economica che si annuncia dura e piena di rischi. Possiamo riuscire, questo è il senso dell'interpellanza, a togliere dal cammino difficile delle imprese, dei comuni, dei sindaci, dei professionisti, del nostro sistema produttivo, dei cittadini, del Paese, almeno una parte del peso insostenibile di adempimenti, iter dilatati, tempi morti, incertezze, lentezze, incongruenze che rappresentano un freno, un peso, un costo per ogni settore dell'attività civile. Lei potrebbe ricordarmi, signora Ministro, che non mancano nell'ordinamento strumenti, come dire, ordinari. Cito soltanto il ricevimento della direttiva europea che prevede l'impegno a diminuire del 25% gli oneri burocratici. Penso al principio di non introduzione di nuovi oneri e adempimenti senza ridurne o eliminarle altri. Ma è lo stesso Dipartimento della Funzione pubblica, nonché il Consiglio di Stato, a rilevare come i Ministeri si siano attenuti fin qui molto poco a questi principi. In ogni caso si tratta di risposte a punto ordinarie per un lavoro certo importante, ma continuato nel tempo e complessivo, al quale altri colleghi, meglio di me, a cominciare da Stefano Ceccanti, per il ruolo che svolge, sapranno contribuire. Su questo io dico soltanto che, per quanto mi riguarda la linea che dalla riforma Bassanini porta alla più recente riforma Madia, rappresenta riferimento fondamentale. Suggerisco, semmai, un rilevo di metodo. Credo che sia necessario un lavoro condiviso tra maggioranza e opposizione per evitare che ogni cambio di governo, ogni cambio di maggioranza rappresenti un nuovo inizio, come in un interminabile, sterile gioco dell'oca. No. Quello che chiediamo con questo atto, signora Ministro al Governo, è un intervento straordinario, rapido, profondo, con il carattere di una eccezionalità almeno pari a quella che stiamo vivendo. Anche in questi giorni drammatici abbiamo dovuto fare i conti con il potere di una burocrazia che sembra impermeabile ad ogni tragedia. Mi limito a citare la necessità del continuo adeguamento del modulo di autocertificazione perché il combinato disposto di alcune norme rende impossibile l'adozione di un semplice testo che richiami, in termini generali, al rispetto delle norme vigenti. Oppure potrei citare il rischio che, iter troppo dilatati e appesantiti da oneri e distinguo, riducano la portata dello sforzo straordinario del Governo con il decreto liquidità. Qui ci sarà, io spero, il passaggio e l'esame parlamentare a evitare questo rischio. Su questo tema, signora Ministro, il gruppo del Partito Democratico, sul tema della lotta alla burocrazia e della semplificazione, il gruppo del PD, dicevo come dimostra il numero di firme su questa interpellanza, intende impegnarsi al fondo. Ed il Partito Democratico, nel suo insieme, come annunciato pubblicamente dal segretario Nicola Zingaretti, intende fare di questo tema una priorità di lavoro. Desidero che questo punto rimanga verbale, non certo come l'avviso di un problema per il Governo, ma semmai come l'impegno a un contributo, a una collaborazione, a una spinta dichiarata nella stessa direzione, sono certo che anche lei, signora Ministro, vorrà percorrere. Con questo spirito costruttivo, quanto determinato, con lo spirito di chi è consapevole del proprio ruolo e delle responsabilità della maggioranza e di chi si sente per questo corresponsabile di ogni scelta di Governo, abbiamo avanzato e oggi presentiamo questa sollecitazione ad un intervento rapido, profondo, eccezionale, come i tempi che stiamo vivendo, di semplificazione e sburocratizzazione, che aiuti la ripresa e la ripartenza del sistema produttivo e del Paese. È con lo stesso spirito costruttivo di cui parlavo, con la stessa fiducia, che ascolteremo, signora Ministro, la sua risposta.